Buongiorno, io sono Albi E io sono Ice E questo è un match di età della... Ah! Età della pietra! Ti piace questa modalità Ice? Ma sì dai, è abbastanza bella Io di solito uso solo il coltello balistico Eh appunto, è questo quello che rovina questa modalità Perché cioè alla fine nessuno usa... Cioè, quasi nessuno usa la balestra o i coltelli Io sono tutti... Cioè, vanno tutti in giro ad accoltellare e basta Ah, eccoti chi sei, è di te Ah, ciao, come va, bene? Comunque, te cosa ne pensi? Cioè, io questa modalità la odio, ecco No, la odio... Sai perché? Perché andrebbe anche bene il fatto di accoltellare e basta, ok, va bene Però il fatto è che... Sei tu? Sei tu? Allora Ah, no, non eri tu Comunque, no, il fatto è che... Il fatto è che... Cioè, non... Non premia il più bravo Perché alla fine, eh, verso la fine diventa tutta fortuna Nel riuscire a non farsi beccare da un Tomahawk, diciamo Sì, è la parte più divertente Divertente però, voglio dire, non vince il più bravo Vince quello che... Che c'ha quello di non farsi beccare, diciamo, ecco Tipo io adesso ho appena usato un Tomahawk contro uno Ma è comodo il Tomahawk perché se, tipo, ad esempio sei non ultimo ma quasi Tipo adesso io sono quarto, no? Mi conviene usare il Tomahawk o il coltello perché salgo più velocemente primo Eh, lo so, ma poi alla fine i match finiscono addirittura con, tipo, gente che arriva prima con, boh, tipo, tre... Con cento punti Cioè, capito? Sì, sì, capita queste cose Eh, eppure qui, insomma... Però bisogna anche essere bravi a usare il Tomahawk, quindi... Perché se non sei bravo a usare il Tomahawk... Eh, ma no, perché verso la fine, cioè, quando... Ecco, vaffanculo! Cioè, verso la fine, quando, cioè, sono tutti, tutti, diciamo, che cercano di attaccare il puntino giallo Cioè, è facilissimo che muori con un Tomahawk perché se ci sono cinque persone che cercano di mirarti, comunque sto giocando troppo di merda, minchia No, io, no, dai, non sto, non sono molto... molto messo Eccolo lì che ho beccato il primo No, ma beccato... Vabbè, non col Tomahawk Però, adesso, ad esempio, mi spiegherò l'ho visto LOL Coltellino sale Ho visto il puntino giallo sulla minimappa e la prima cosa che ho fatto è lanciargli il Tomahawk Eh, lo so Ad esempio, io, la mia strategia è anche questa Ad esempio, quando me ne vedo uno vicino, non uso il coltello, uso il Tomahawk perché conviene, sinceramente Eh, lo so, ma, ma appunto, cioè, questo, voglio dire, la mia tesi è sempre questa, no? Non è difficile uccidere uno col Tomahawk E alla fine, cioè, non vince il più bravo, quello che ha fatto più precisioni, quello che ha fatto più precisioni con le armi, tra virgolette, non accoltellando la gente Ma vince quello che ha il culo di non essere beccato dal Tomahawk, capito? E questo, cioè, sembra Oppure anche un'altra cosa che faccio io è quella di, oddio, mamma mia, ho tirato la coltellata un po' presto Eh, ad esempio, magari quello che faccio io è anche No, 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 bancarotta proprio adesso Oh, ti sta bene, vedi, vedi? Tu, tu e tu, i tuoi Tomahawk Nooo, maledetto No, cavolo Se lo beccavo io era il primo, cioè, avevo davanti il primo Sì Ah, ho bancarottato il primo E sono arrivato secondo con 185 punti, cioè, ti rendi conto? Che merda sta modalità Nooo, vai che sono primo, vai che sono primo Momi, nascondo, porcaccia Sì, eh, ti vengo a prendere, tanto c'è il puntino già Eh, vai, ti aspetto, ti aspetto, ti aspetto No, cavolo Ho perso il mio Tomahawk Ok Oddio Che bastardo Ti va a scondere, eh Nooo Sta zitto, vai via, 30 secondi, non rompermi il cazzo, non rompermi le palle, ti ammazzo Ti ammazzo, vai via Tiratelo, tiratelo, tiratelo in Tomahawk, in testa, muovetevi Vai via, non rompete le palle, non rompete le palle Non rompete le palle, 15 secondi, non rompete le palle Nooo, ti ho mancato Stai zitto, stai zitto, vai via, vai via, vai via, vai via Nooo Vattene, vattene, vattene via Via, via, spero che tu arrivi ultimo No, sono quarto Oh, ti sta bene, ti sta bene Oh, questo, 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 questo è come va giocata questa modalità Oh, nooo, cavolo Bella Oh, mettete un bel mi piace Questo, mi sa che lo pubblichiamo solo sul mio canale Su Albi, vediamo di farne un altro Veramente Bella No, peccato Ci sentiamo Ciao, ciao, ciao 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 Ciao